Vai, vai, vai! Oddio! Let's go! Oddio! Oddio, no! No! No, sono un pirra! Che cosa ho fatto? No! E ce l'abbiamo! No! Oh mio Dio, sono un pirra! Dopo la sfida contro Ferro, è il momento di sfidare pure Powa, che si reputa il più forte del team su StumbleGuys. Ma non lo pensa nessuno, sinceramente. E ora, mentre lui non ci sente, non sa che Ferro mi darà una mano, perché lui può batterlo Powa. E come prima mappa, ICX non è proprio il top per me, Powa sei carico! Vada fratello, vincerò io! Ok, allora ragazzi, ovviamente qua il mio, non era proprio così che devo farlo, vero? Fai schifo! Regà, stai già facendo schifo, complimenti! In realtà so prima di te, più o più o meno. Scusami, ma sei capace di fare una partita normale? Allora, perché continui a farmi il doppio salto, porca miseria? Ma basta, sei troppo scarso fratello, qualcosa mi dice che Powa oggi vincerà. Un po' di trick. Allora, Ferro, lo so che tu mi devi dare una mano per aiutarvi a vincere questo, perché tu conosci tutti i trick del mondo, ma io non li so fare! Salta! Ok, almeno questo lo sapete. Ho preso il palo pure. Block Dash come seconda mappa invece mi ispira molto di più. Tu sei uno dei più forti in Italia, il bello nazionale. Al mondo, al mondo, infatti non morirò subito. Qui probabilmente ragazzi io dormirò. Perché fa il doppio salto a caso sto laggando? Powa, in caso dovessi morire sappi che sto laggando. Sì, sì, guarda quante scude, io me ne metto a dormire, ciao! Io spero che tu mora... Pam! Aia, schifoso! Ovviamente Powa tu non mi puoi puntare giù, sappilo. Guarda che brutto e infame di uno, ti voleva far cadere col calcio, zio. Ma cosa vuole fare sto pirla? Ma non provare a venire da me, non rompermi le scatole! Ma non ti sto a rompere le scatole, voglio solamente dimostrare a tutto il mondo che io... Che tu sei morto! No, aiuto! Olè! Vedi, questo vuol dire essere forte, cretino! Ok, hai qualificato così semplicemente. Io in estamente non avevo dubbi, sono molto molto più forte di Powa. Vi utilizzo la tua tecnica, sai già cosa fare? Vola giù di sotto. Volo uomo, volo! Vado! Ma perché siete volati giù di sotto? Perché sono fermo, sono soccaduto. Non è vero, non è volato giù di sotto. Allora ragazzi, questa si chiama la tecnica dell'infame. La tecnica della mucca, la tecnica della grande mucca. Ma io ho già vinto, sono l'unico su questo piano! Eh sì, sì, tranquillo. Perché sono tutti scesi? Scusi, fatti! Ma che cacchio! Niente, Ferro, mi ritiro un attimo dalla tecnica. Fermo, fermo, fermo. Sì, sì, con calma, con calma. Bro, bro, allora io tu devi... Il tempo ce l'hai, ce la puoi fare, zio. Io devi capire che sono molto... Powa! Sì! Uno contro uno! Ebbene, io tanto sono il primo piano ancora! Porca di quella vacca, penso che sarà molto complessa questa sfida, ma... Io ricordo di che lui non sa che in mezzo hai spaccato tutto, eh. È vero, lui non lo sa, Powa, perché non vieni giù all'ultimo piano? Porca di quella, sono caduto! Dai, dai, sono al penultimo piano io, eh! Dai, lancia di all'ultimo, sai coraggio? Di all'ultimo, Powa? Va bene, mi lancio all'ultimo, ti è! Oh, 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 no, no, no! Signori, la mucca, e grazie anche al consiglio di ferro, ha vinto! Ma sei uno struscio! E ora voglio riconfermare il mio ruolo da più fortunato del team. Dieci giri, una speciale da trovare! Non dirmi che hai trovato la speciale, se no me ne vado, eh! No, no, ma io non capisco che cavolo di culo abbia sto ragazzo! Cioè, tre volte vicino alla speciale siamo andati, raga, è assoluto! Continuo a sciopare, continuo a sciopare, tanto i soldi non sono miei! Ora, Powa, è il momento di rigiocare! Allora, prima l'ho vinta io, ma adesso ho attivato le mie hack! Le tue hack! E sono andato molto più forte, te lo dico, eh! Ma che cacchio usi le hack contro di me? Qual è il tuo problema? Non è che uso veramente le hack, è che cerco di impegnarmi di più, pari! Bravo, sì, esatto! Allora, ci possiamo prendere... Cioè, vi potete prendere a calci e pugni, zio? Eh, sì, ti direi! Però, cioè, solo se lo fare fiz! Ok, comunque, ragazzi, perché sta partita qua? Ci sono... C'è gente forte, guarda di quanto corrono qua! Eh, ma perché sono diventato io? Ragazzi, ma voi state giocando da soli? Io non sono ancora entrato! Come non sei ancora entrato? Oh, porca vacca! Ma come? Mi sa che abbiamo fatto una partita normale! Avete giocato senza di me, brutti l'erci! Stylefall, Powa, è la seconda partita, siamo 1-0, ovviamente alla meglio delle tre! Giusto! E ti dico una cosa, in questo momento mi impegnerò molto di più, noterai subito una grande differenza! Ma che cacchio vuoi fare? Ma per favore, vattene a dormire, che qua Powa è sempre il più forte! In realtà voglio... Guarda come le azzecco tutte! Le azzecco tutte! Vattene, ma cadi, vai! Ferro, Nabbo, mi ha tirato un pugno, sto infame! Oh! Oddio! Ma che cacchio! Oddio! Oddio! No, non ci credo, questa è la qualificazione migliore di Stylefall! Ma come cacchio hai fatto? Vabbè, ecco le hack! Eh, sì! T'ho detto di non usarle! Sì, sono mezze hack! Sono piccole hack! Più o meno, cioè, le hack si chiamano Ferro! Sì, no, no, ma si chiamano Ferrak! Ferrak, le Ferrak, sì! E già nella prima mappa siamo stati i primi! E saremo i primi anche su Humble's Tumble! Sicuramente sì, signor Ref, le tue hack sono assurde! Sì, le hack fantastiche di Refitz! Ma sai perché non sarai il primo in questa mappa? Perché non... Ma ricordi sempre che gli ultimi saranno i primi, Powa! No, non esattamente così, però va bene! Brutto schifoso! Però tu non sarai né primo né ultimo, Pirla! Comunque, dei ragazzi Ref è migliorato tantissimo, eh! Sono diventato un fortissimo player! Comunque, non per dire, però sei ancora ultimo! Ah, ah, grande! Potete essere una cosa bella! Non mi puoi far dire queste cose e poi sbaglio così! Perché sto giocando io, no? Sì, 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 no, stai giocando te, sei anche molto forte! Petro! Boom! Porca di quella che l'era! Prendi la mia polvere! Dove uno vince la prima volta, vince pure la seconda! Questa volta però usiamo una tecnica diversa! Ok, la tecnica di Ferro, quella che ti ho insegnato io! Sì, è che mi hai insegnato, esatto, sì! Devi buttare giù Powa! Eh, sì, l'ho capita questa cosa! Il fatto è che è abbastanza più complessa, nel senso che... Guardalo là! Io ti consiglio di usare il numero 4! Ref, perché sei ancora qui sul mio piano? Ci possono stare solo i più forti, ovvero io! Intanto vedi di stare zitto, Pirla! E poi Ferro è... Cioè, Ref, è un cretino! Perché Ferro? Ma mandalo a quel paese Ferro! Porca miseria, che cacchio ho fatto? Ma quanto è facile vincere contro quel Nabone! Comunque, zio, noi siamo caduti! Sei tu uno vi uno! Ma lanciati! Vai all'ultimo piano e prova a distruggerlo! Ma come sono... Ma come siete caduti, ragazzi? Siete così scarsi! Eh, vieni qua a dirmelo in faccia, cretino! Ma dov'è che devo andare all'ultimo piano? Ditemi dove si trova questo qui! All'ultimo piano, ti stiamo dicendo! Sì, è ultimo, penultimo! Andiamo all'ultimo piano! Allora... Oh, ma che... Perché sei qui? No! Che Nabone! Diciamo che ci sono dei tasti invertiti! Ma dopo una partita, Ferro, che cosa si fa? Non si prova a trovare un'altra speciale? Sì che si prova! Le trovi sempre, tanto ormai, basta! Ultima partita! Siamo 2-0, quindi, base, abbiamo già vinto noi, ma facciamo l'ultima per... Ma non è vero! Ma siamo vinto io! Oddio, è vero! Non l'ha vinta lui, purtroppo! Porco mondo! Ci giochiamo tutto in questa partita! Tutto qua! Mucche reprise! Tu sei me! Via! Vabbè, tu ti senti forte solo usando il calcio, è normale! Sei un piccolo uomo! In realtà sono una mucca che ti batterà! E infatti, non è un uomo, è una mucca! Che vola la mucca! Che schifo è essere... Oh la mucca, vola! Cosa è che è schifo essere delle mucche? Puzzi tutto il giorno! Ma vai a quel paese! Lui produce latte, tu cosa produci? Un coro, tu non vivresti un giorno senza una mucca! Io sono un bel finito! C'è tanta stupidità! E tanta cacca! Intanto non rompetemi le scatole perché io sono un fenicottero che vola! Signori, dopo una qualificazione al terzo posto è il momento di far capire... Distruttivo, zio, devi distruggere! Devo fargli capire a sto... Allora, chiariamo una cosa! Che sei già caduto? Che nabbone! Vabbè, io mi addormento qua! Guardalo come ti... Ma porca putti! Ma vai a sinistra, vai! Ma vaffanbeco! No, no, no! E' un po' qua! Sì! Se sei uomo, aspetti! Ma va quel paese, ma per favore! Non farmi troppo ridere, dai! Non riderei, for sintetico! Penso che non sei un uomo se non aspetti! Comunque, se riesci a recuperarle e a qualificarti, sei un grande uomo! Hai dubbi che io non riesco a farlo? Una grande mucca, volevo dire! Hai dubbi che io non riesco a farlo? Attenzione, attenzione! Cavolo! Era palese, ma l'ho fatto apposta! Sei vivo! Io l'ho fatto apposta, assolutamente! Sì, sono matto! Volo! Vai! Vola la mucca! Cioè, sei ancora l'inizio della mucca, ma contro chi sto giocando? Lasciala andare! Finchè la mucca va! E ora? Ci si qualifica! Vai! Addirittura prima del povero Powa che è stato vedo me in meno! Sto dormendo! Come ti ha saltato? Comunque, non importa! Qualificato, siamo di nuovo in finale contro Pampa! Signori, Super Slide è la mappa perfetta per concludere questa sfida epica! Zio, devi fare ogni clic! Rick, volevo dire! Se sapessi cosa sono! L'importante zio che c'ha fai! Vai, 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 è il tuo momento! Ma guarda quanto mi sta dietro! Guarda, 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 guarda qua! Ok, vai, sì! Ce l'abbiamo! Tutti e tutti che il primo ce l'abbiamo! Ok, se riesci a fare questo me ne vado! No! Let's go, baby! Let's go, baby! Quanto sto tryhardando! Guarda quello schifoso come gli stava facendo tutto! Sì! Se già ti do cinque gol! No, mi dispiace! Voglio vincere io! Non penso lo farà mai nella vita, zio, eh! Sono caduto! Godo! Vai, vai, vai! Oddio, ok, ok, non mi chiedere come! Non mi chiedere come! Vai, vai, vai! Oddio! Let's go! Oddio! No! No! No, sono un pirra! Che cosa ho fatto? No! No! E ce l'abbiamo! No! Oh mio Dio, sono un pirra! Parola di struttura! Ragazzi, abbiamo dato tutte le nostre forze per risultare! Ragazzi, lasciate un bel like e iscrivetevi! Noi qua vi salutiamo perché Battere Povo è stata un'impresa!